Ciao ragazzi, oggi siamo qui a Roma e andremo a vedere il Colosseo. Farò sapere appena arriverò la mia emozione quando sarò lì a vederlo per la prima volta. Ragazzi ancora gli scalini siamo arrivati. Oh cazzo, quanti cacchi! Eh va bene dai, tre o quattro. Comincia l'avventura dai! Alla faccia dei due scalini facciamo dai tre o quattro. Ragazzi qua abbiamo un altro monumento fantastico, guardate! Giardini pazzeschi, costruzione, costruzione è quella di lui. Non so cosa dire raga, oltre che stigissimo e altri aggettivi super latini. Qua dietro a destra ci dovrebbe essere il Colosseo da quello che mi hanno detto e sarà un'emozione pazzesca vederlo. Ora andremo subito. Cazzo raga, strabello! Sia vederlo da qua e vedremo anche dalla vicino poi. Da qua ne vedo solo un pezzo però... E' una figata, wow raga! Non è molto latissimo per... Non devo vedere più di qui, da più di qui da dentro. Qua sembra che sia veramente grandissimo. Poi abbiamo detto che è di circa 50 metri, quindi da là sotto sarà ancora più grande secondo me. Guardate raga i monumenti qua intorno che ci sono. E' veramente... ... 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